ecco, iaiaia, iaiaia, iaiai cè iaio si, brandon? allora è partito ok, niente, sto parlando da solo qua lezione 40 verbi fare PATE 1 che non c'è neanche scritto taglia un po' più incolla immocissendimento sentimento sentimento e emozioni comunque allora sopportare il dolore ringraziare per essere grati ai genitori hito no anashi ni kanshin suru ammirare il discorso degli altri della persona ega ni kando suru emozionarsi con un film non so perché ho lasciato tutto sto spazio vabbè non è scritto così mi lascio così mensetsu ni e kincho suru essere emozionato essere nervoso al colloquio all'intervista siai ni kofun suru essere eccitato per la partita mirai o kanso suru no e sozo ah, sozo è immaginare sì, sozo è immaginare che più immaginare il futuro sensei ni son ke suru rispettare l'insegnante shi pai o anse riflettere o anse non è pentirsi è riavvedersi tipo riflettere o pentirsi di quello che fa pentirsi naio o rikai suru capire il contenuto ito ito questa è un'altra sezione ito to ito rapporti interpersonali ito to ito eeeh 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 questo qua è ioka o kyoka? questo qua me lo confondo, no io è diverso, è kyoka allora, sì, kyoka suru scritto con lo zu, vabbè, avere il permesso di entrare in azione, tomodachi ni dengo suru, trasmettere un messaggio a un amico, per dire una cosa, vabbè, kareto nakaiori suru, fare la pace con lui, ok, sensioni, questo l'ho già fatto, axio solo, c'è due volte, ah no, questo qua è axio l'altro, questo qua è applaudire, l'altro è, uno è con l'h e l'altro senza h, ogni volta ve li confondo, uno è applaudire, l'altro è, diciamo, è stringere la mano, kikako ni hantai suru, è opporsi al piano, essere contro il piano, chuyo mushi suru, fare ignorare o far finta di non vedere il pericolo, tomodachi, cioè di stare attento, tomodachi, to yakso suru, fare una promessa o dare un appuntamento a qualcuno, kanojo to yakso suru, kanojo katsu yakso suru, lei fa l'interprete, ken koni e kyo suru, avverà influire sulla salute, shupatsu wo, enki suru, rimandare o prolungare la partenza, seikaide e katsu yakso suru, fare i numeri qua in tutto il mondo, biruo, kanso suru, completare il palazzo, kukiga, kan, questo qua è kanso, asciugare l'aria, kanso si dice non è kanki, ma non si dice kanki, suru, si ma ho capito, ma non si dice kanki, no, dice asciugare l'aria, va bene, kurumaga, koshu suru, la macchina è rotta e riparazione, shiaiga, suru suru, la partita l'è finita, shikenga, ma mi sa che sono più avanti, si ok, un secondo che devo inserire una roba qua, shikenga, shikenga, yosu, tututututu, e ttttttti, yosu, yosu e dekigoto, dekigoto, condizioni, che cose accadute, cose che accadono, cose che accadono, cose che accadono. allora e siamo arrivati a Jiken ga Seiko suru avere successo con l'esperimento Kodomo ga Seiko suru il bambino cresce Gijutsu ga attatsu ok sviluppare la tecnica Okane ga Fusoku suru non avere soldi abbastanza Hiro ga Enka suru cambiare colore buon di Alex buon di Massi e poi qua ci fermiamo che è Koduo Koduo è trasporto l'ultima lezione poi vi passo il file poi vi metto il file Koduo poi c'è quello lì il mini Koduo lo guardo velocemente domani per il riepilogo dell'S3 Koduo Koduo lo guardo velocemente trasporto Koduo lo sapete anche voi trasporto allora Koduo questo qua mi ricordo più se è Kyuko non c'è Kyuko questo non l'ho scritto ah sì c'è scritto Kyuko Kyuko ga asha suru il treno parte il treno express parte Bastini questo qua è Jousha suru è salire sul pullman Bas ga Teisha suru il pullman si ferma A Eki o Tsuka suru passare dal punto A cioè dalla stazione A Eki ga Konzatsu suru è la stazione affollata incasinata Michi ga Jutai suru c'è traffico in strada Kurumade Ido suru spostarsi in macchina muoversi in macchina Doro o Odan suru attraversare la strada mamma mia mi ricordavo Odan questo qua dovrebbe essere Gaman non so perché non me lo ricordavo Gaman si è Gaman Gaman è trattenersi che sopra ah sopra non c'è col kanji poi sotto si mi sa vediamo ecco perché l'avevo sbagliato perché qua l'ho scritto senza il kanji naturalmente una cosa che non l'ho scritta no vedi che è scritto senza il kanji adesso me lo scrivo col kanji Gaman ok così Gaman portare il dolore ok facciamo così sopportare ok leggiamo gli azazi sono i verbi fare quindi tutte le parole del mondo sono verbi fare qua c'è un numero scritto malissimo e mi dà fastidio 3 poi è scritto ok posso ok iniziamo da qua dove cacchio è il foglietto il foglietto dove lo metto ero tutto storto io ho tenuto anche la telecamera storta perché l'ho storto io ah no non c'era il kanji l'ho aggiunto io non c'è il kanji sul libro però va bene un kanji in più non fa male a nessuno ciao protolone che è quello che dovrei fare io ma non ci voglio se ti fa male il dente non tenerti il dolore vai subito dal dentista non mi fa male però il signor Ara per quale team fa il tifo Tokyo Gojiras Tsugino Shiaimo i Tokyo Gojiras e andrò anche al prossimo al prossimo ingondro Amega futterà Donna Rimasca se pioverà cosa farai cioè cosa faremo Amega Atsu Yokereba Tsugino Shuni Enki Shimas se pioverà forte sarà rimandato la prossima settimana questo palazzo ha iniziato i lavori quattro mesi fa nonostante abbia iniziato i lavori quattro mesi fa è già completo che veloci le notizie du giornal oaio mina e siete tu e massi purussato ni kairukurumade kosoku dorua do kode do komo giutai steimasu quando sono tornato nella mia città natale e tutte le autostrade erano affollate allora osei no itonomae de umako anasenae kinchosuru kinchoste davanti a tante persone mi emozione non riesco a parlare bene come me tomodachi to shibaraku kenka ste itakedo kino yato quando hanno fatto la pace nakaori sta avevo litigato con il mio amico ma finalmente ieri abbiamo fatto la pace con il professore grazie al professore sono stato promosso all'università gli sono veramente grato gomen ashta nijini te itakedo yakusoku ste itakedo sanjini e ste morainai io se morainai io scusami ho promesso per domani ma non possiamo fare alle due ma non possiamo fare alle tre praticamente va bene l'altro risponde allora minna de reba ichigikande ovarimas minna de kyorioku su reba se tutti ci mettiamo insieme finiremo il lavoro in un'ora credici non so cosa sia successo prima ma sembra che la stazione sia bella incasinata affollata fare questo lavoro è difficile per volontariato ti ammiro veramente tanto o sei un cretino minna san ni mei wako kakete shimai questo qua anse steimas scusate se ho creato problemi a tutti sono molto pentito di quello che ho fatto queste sono le classiche frasi che le dicono ma non ci crede nessuno e poi abbiamo la lezione 41 che è sempre verbi suru parte 2 vi ricordo che tutte le parole dopo suru sono verbi lezione quindi questa lezione potrebbe durare anni però va bene chi c'è Marco? devo schiacciare il ma non puoi usare l'altro coso? no voglio finire non esce Marco Marco è finito non esce niente non esce niente a parte che mi hai sporcato il dito di nuovo ho capito ma mi rimane il dito mi rimane il dito pieno di vernice di cose vabbè ho capito allora andiamo a copiare da qua sopra perché noi vogliamo non vogliamo riscrivere tutto vero? no copia verbi fare parte 2 verbi fare parte 2 mettiamo un bello spezio e che spezio? qua vediamo ah qua parte da ok non si sa per quale modo prima eh adesso qua parte da quindi da inserisci da a chi a chi sorriderò se non a te a chi mamma mia come sono romantico allora basho o idosuru spostarsi di posto muoversi dal posto cioè muoversi più che altro è traslare da una parte all'altra osake o enryosuru trattenersi dal bere dal bere magari sta capito jikan o kakuninsuru verificare o controllare l'oram ok zengoku de katsudo suru essere attivo fare attività in tutto il mondo non ci stava lo scritto bello che sopra lo scritto tutto uno sotto l'altro qua è diverso impazzito tokyo de questo non mi ricordo ah kankosuru kiyoto scusate kiyoto de kankosuru visitare kiyoto o fare il turista a kiyoto come volete voi shiryo o kanri suru e organizzare i documenti o mettere a posto i documenti namai o kinyu suru e compilare il nome deta o toroku suru e registrare i dati questo è tsuyo o kinshi suru vietato usare vietato l'uso su quello non mi ricordo mai se inichi dovrebbe essere ga ke te suru giusto decidere il giorno la data sarebbe poi verso il giorno ma è la data inichi è la data riyoko o kikaku suru pianificare il viaggio ma non è come si vede che non ci stavo non so perché ho scritto tutto su una cioè va bene tutto per scrivere suru cento volte poi nelle parti nei cosi nuovi non non me lo ricordo io ho visto quello lì non mi ricordo era con curo qualcosa ma era quello che aveva i capelli era biondo ed era un demone cioè biondo con i capelli neri era un demone e faceva il detective però era un mostro allora pianificare viaggio poi kikaku questo non me lo ricordo keisansuru calcolare l'ammontare o sommare dipende ammontare ammontare asha to keisansuru fare un contratto con la ditta bello ditta ok dopo gli do occhio grazie iede e keisansuru truccarsi a casa che è quello che fa mako denshio kokansuru cambiare le pile kokan cambiare truccarsi poi abbiamo kiazuo questo è quello che non mi ricordo mai koketsuru sommare i numeri fare la somma il totale dan taide idosuru spostarsi in gruppo muoversi in gruppo fukeo satsue satsue fotografare o filmare però ormai si usa per filmare ok no ma io lo guardo in un'altra parte non lo guardo su cui i siti con i sottotitoli mi danno fastidio allora iarikata o e però grazie ciao danni aini sankas no kaini sankasuru partecipare all'incontro alla riunione dipende dalla situazione iarikata o shijisuru ordinare ma shiji non è ordinare ecco shiji non è ordinare io ho messo spiegare iarikata o shijisuru significa anche spiegare per me è ordinare vabbè basho shijisuru specificare il posto deta o shijisuru shuse shuse shuseuru rivedere i dati questo non me lo ricordavo anche se l'ho letto però non mi ricordavo il significato aiuto via la voce tokeio shuri suru riparare l'orologio aiuto però mi sa che il si abbiamo già superato tutte le lettere adesso ryokani shuku akusuru per notare nell'albergo kodomo o chinsatsu dovrebbe essere visitare il bambino questo visitare non è andare a visitare ma è quello del dottore shijio e serisuru mettere a posto i documenti ordinare i documenti va bene sein o questo non me lo ricordo sende questo non me lo ricordo ah la pubblicità questo non me lo ricordavo pubblicizzare un prodotto shijio tsui kasuru allegare un documento sarebbe aggiungere più che allegare namo e otto roko registrare il nome l'abbiamo fatto anche prima chigoto de e dorioku suru impegnarsi al lavoro mettercela tutta oshi o akken suru scoprire una stella che ho visto nedan o ikaku suru paragonare un prezzo jikan o enko suru cambiare orario deta o zon suru salvare i dati che poi se notate certe parole le abbiamo già ripetute in altre lezioni però te le fa ripetere nikuo questo reito suru è congelare la carne la carne caseo questo è iobo iobo suru prevenire l'influenza atm o rio suru usare il bancomat adesso devo aggiungere tutte le lettere che non ho messo allora zuika abbiamo ta zu 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 zuika allora da ta in avanti a chi sorriderò se non a te ah a chi a no da ta in avanti poi sarebbe da ta alla fine però almeno penso ci sia un'altra lezione con verbo suru no dopo c'è la lezione del katakaz ta poi abbiamo sa 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 satsu che è qua prova prova da Sa in avanti poi da Che a Ko dov'è che siamo? Che te decisione Che te eccola qua Che Ko Che Ko Da Che a Ko Ok Sono in ordine così Proto non mi picchia Poi devo Allora Doshio Ah no c'è un problema È diverso quello che ho scritto Ah infatti è un'altra frase qua E qua Infatti mi manca la frase Doshio Macigai te Il saiso kacciata Kokanchi te morattara Come farò? Ho sbagliato Ho comprato la L E vai a cambiarla C'è buona tanto Astano Yoyaku Hittori Zuika Ste Hacinin Stai Stai In desga Hai Che c'è Codes Un ticket Vai tranquillo Vedete che Zuika Non è allegare Ma aggiungere Qua infatti è scritto Aggiungere Mettiamo aggiungere Come vi confondo Poi mi dite Ma lì poi si Aggiungere Aggiungi un posto A tavola Allora Aggiungere Allora Questo significa Alla prenotazione Di domani Vorremmo aggiungere Un'altra persona E diventiamo in otto Va bene Sì va bene Buongiorno Gio Questa è la frase Preferita di tutti Se ti iscrivi Come membro Se ti iscrivi Membro Alla prossima Spesa Potrai Accumulare Punti Me lo scusi Avevamo prenotato Per il 18 Verso le 7 Non si può spostare Cioè se non si può cambiare Dalle 7 Alle 6 No Eh no È così Mi dispiace Tabun Forse oggi è aperto Ma sarebbe meglio Che chiami per controllare Che è quello che dico sempre A mia moglie Sakura Shotengaiga Internet O Questo è O erio E rio Perché non c'è niente Rerakusta Rerak Riosuru Rerakusuru Riosuru Riosta Savis O Ajimemashita Nella zona Nella zona Dei negozi Di Sakura Ci sono Hanno iniziati Servizi tramite Internet Tu capisci Internet Già Questo qua è Nichiji Perché l'ho segnato Gakimattara Gore Raku Shimasene Ayone Gashima Quando abbiamo deciso La data Ti contatterò Ok va bene Nedanto Kino Toka Iroiro Ikakuste Korega E Chibanito Moimasto Ho confrontato Sia il prezzo Che le capacità E ho deciso Penso di decidere Che questo qua Sia il migliore Che ho i cinicide Zucato Kaneo Kokestara Niman Yonsen Endesta Oggi Se faccio il conto Di quanto ho speso Ho speso 24.000 Yen Vero Marco Se fai il conto Di tutte le cose Che compri a 10 euro Poi alla fine Spendi tanto Dewa Kokoni Nama Eto Ditemelo Che sto scrivendo Obliquo Dewa Kokoni Nama Eto Denwa Bango O Qua è Kinyu Stekudasai Aiko Kodetsu Anche senza guardarlo Risposto Allora qui Scrivi Compila nome Numero di telefono Ah sì Proprio qui No Dall'altra parte Konkaino Jiko A Tsuro O Steru Shi Ni Sekiningaru Dovrebbe essere Tsuro Ni Aspetta Kinyu Kinshi Kinshi Dovrebbe essere O Kanri No Kinshi No è Kanri Perché Kanri E non Kinshi Ah perché Kinshi Sulla altra roba Stavo leggendo Storto Da Valiun Valiun Eh esatto Stavo leggendo Storto E nessuno me lo dice L'incidente di questa volta Che questo qua L'avevo sbagliato L'altra volta Che Kanri Avevo messo Cioè anche adesso L'ho detto Ho detto Kinshi La colpa del traffico È stata perché Era vietato Entrare in una strada Invece qua Inteso E c'era Perché stavano Mettendo a posto Una strada Va bene A riprendere In Giappone Che non si può All'interno del posto È vietato Riprendere Siete tutti pregati Di seguire le regole Poi i gaijin Non lo fanno Nessuno gli dice niente Però Siete sicuramente Maleducati Con l'eiga Il katakatsu Il katakatsu Il katakatsu Non è giapponese Dite di no Katakatsu Dite sì A valsoia Non mi scrive più la penna C'è il Non riesco più a scrivere Ok Adesso Lezione Lezione Ok Yeah 42 Vabbè Tristezza Katakatsu Copia e incolla Il katakatsu Non è giappone Suru Doshi Verbi fare In katakatsu Tutte le parole In katakatsu Più suru Sono verbi Cioè anzi Tutte le parole Più suru Sono verbi Quindi potreste Scriverle all'infinito E non finire mai Suru Doshi Che significa Verbi suru Doshi Ok Mettiamolo Che sennò poi Proto mi picchia Perché non gli metto Io i paragrafi Up suru Fare l'upload Però Mister Giovieni Vieni a fare katakatsu Anche tu Da un suru Che non significa Che buttarsi giù Dalla finestra Ma è fare download Advice suru Dare un consiglio Announce Fare un annuncio Vabbè annuncio Poi Ancheto Ancheto Non lo sapevo Ve lo giuro Ancheto Non c'ero arrivato Che era questionario Image E immaginare Imagination Interview Intervistare Open suru Aprire Cut suru Tagliare Sign suru Firmare Tockei O set suru E impostare L'ora Postare Ora Start suru E fare start Partire Mi vergogno di me stesso Goal suru Non lo so E fare goal Spici suru E fare un discorso Check suru Fare check Check in E fare il check in Check out E fare il check out Deto suru E avere un appuntamento Amoroso Knock suru E bussare Purassu suru E sommare O aggiungere Design suru E fare un design Minus E minore Home stay suru E stare a casa Di qualcuno Cioè Home stay Home stay E stare a casa Di qualcuno O per notare fuori Boh Non lo so Miss suru E fare un errore Recycle suru E riciclare Relax suru E relax Don't do it Allora Rent suru E affittare E avere un'idea Gol o kimeru E fare gol Communication Otto ru E rimanere in contatto Communication E questo non so E rimanere in contatto Non so come scriverlo Vale lasciare così Fare gol Vale lasciare così Anche questo Ciocco o kimeru Essere scioccato Switch o kimeru Kiru Aire E accendere E spegnere la luce Che stai a casetta Home stay Che stai a casa Ok Senso gai E che E sei portato Questo non Perché è scritto Non è in katakaz Non l'ho scritto io Per me questo Non è in katakaz Sense gai Può avere buon senso Essere portato Non essere portato Warui gai Balance gai O balance gawarui Avere equilibrio O non avere equilibrio Casual E casual Questi sono tutti aggettivina Se poi aggiungo i paragrafi Simple Semplice Liscio O levigato Amateur Amatoriale Pro E come pro Il nostro amico Protogenesi Original No Shuin E un prodotto originale Original Marine Per gli amici Lo chiamavano Il professionista Sampur E campione Self service Che te lo fai da te Onno title E il titolo del libro Digital E digitale Topo O Ashiru Corsa al topo Ashiru 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 Oretachi Lasto Ultimo Volanti E volontariato Volunga Oi E grande volume Dipende poi Questo è inteso O del Infatti c'è scritto Grande volume C'è grande quantità E questo invece è inteso Come il volume Della tv Uno è inteso Come volume E quantità L'altro invece Come La stessa parola Ma li usano Per due cose diverse Allora Mi sto volendo dal caldo Marco sta tentando Di strozzarmi Con la sciarpa Allora Sofa Allora Lo leggo da qua E' beato che se lo fa Il sofà Sofa Adesukina Ongaku Kiteru Tokiga Ichiba Rilax Dekimasu Quando Ah ok Quando 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 ascolto La musica Allora La cosa che mi rilassa Di più Ascoltare la musica Sul mio Sul mio Sul sofà Che amo Brava Come fa la ferilli Kyo Seinga Todohita Keredo Imejista Mono Tocigattita Oggi il prodotto È arrivato Ma è diverso Dall'immagine Anche Dostaraino Kana Aokisan Che cosa si può fare Sicuramente Il signor Aoki Ti darà un bel consiglio Kuchira No Shatsua Toten Original No Design Nandes E Kawai Desne Questa camicia È un nostro Design originale Di questo negozio È carina Carina Ve l'ho messo in kanji Per farvelo vedere Ogni tanto Mata Cap Ramen Chanto Questo è E E E E O Non me lo ricordo più Dovrebbe essere E E No Baransu Toranaito Biokininaro Mangia ancora Il cup ramen Che sarebbero Quelle cose che metti Dentro l'acqua E Viene fuori Il ramen Orribile Leofilizzato Se non mangi Se non hai Un nutrimento bilanciato Ti ammalerai E Io Era giusto Vedi questo E io Non lo sapevo leggere Adesso lo so leggere Bravo Credito Cardo Però vedete Che sulle stesse parole In cui avevo dubbi Mi rallento Perché non sono sicuro Credito cardo De Oshiarai De Sneko Chirani Sign Onegashimasu Vuoi pagare con la carta di credito Fai una bella firma Chi E solo Soprattutto La polverina chimica Esatto Ma infatti tutti lo bevano Perché è chimico E ti fa girare la testa È tipo Una droga Legalizzata Venerdì sera alle 7 Inizierà la riunione degli ubriaconi Non arrivare in ritardo Per colpa mia Ho dato al cliente E meno resto Qui sei un ladro Telebino Swichi No Telebino Non c'è No Bolium Mociotto Sagete Kurenai Potreste abbassare un po' la tele O meno Rossecata Scusa Era alto No Te lo dico perché non so cosa fare Aspettate che Ho capito perché sono storto La base del libro è storta E quindi io ho l'addrizzo Konshu Questa settimana Ekimaeni Atarashisupaga Opensuru Questa settimana davanti alla stazione Apri un nuovo supermercato Doa O Karuku Nokusuru Ste Kara Eiani Aitekudasai Dopo che hai bussato delicatamente sulla porta Entra nella stonza Ciao Seban Come al volo Cosa fai Voli adesso Perché sei arrivato in ritardo Mi sono dimenticato di mettere la sveglia Questa è la frase classica Quando arrivate in ritardo al lavoro Poi Konohito Alla televisione Konohito Chugoku Gode Interview Ste Ste Roo E Tsuyakunashinanda Questa persona sta facendo un'intervista in cinese È senza traduttore Eh beh Se sa il cinese O sei cinese Parla in cinese Allora Poi abbiamo Kanyoku Kanyoku Sono gli idiomi A me idioma Ah no Non abbiamo aggiunto i pezzi A me idioma Non me lo dice Capito Allora Amateur Amateur Qua Dovevo mettere Sonota Non metti Gli spazi Poi Proto mi picchia Perché non ci sono gli spazi Che capito Amateur Era Sonota Altri Aggettivi Na 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 Ni 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 Na Nakeyoshi Che significa Aggettivo Na Nakeyoshi 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 Aggettivi N Mi scrivo Age Giusto Perché sono buono Aggettivi Na Senso Mi devo fermare Idea Idea è qua Ah è Catacana Più Verbo Catacana Più Verbo Catacaz Catacana 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 Go Più Verbo O più Aggettivo Ciao Sebastiano 90 Catacana Go Catacana Go Che coraggio Check out Se l'abbiamo Fatti Ok a posto Andiamo avanti Altra lezione Altro regalo Adesso facciamo gli idiomi Dov'è l'idioma Ma l'idioma Non me lo dice Capito Kanyoku Copia E incolla Parte 1 Parte 2 Parte niente Parte Così e basta Lezione 43 Dica 43 Lezione 43 Ok Atama Inizia con Atama e Kao Che è questo il titolo Quindi mettiamo il puntone Il paragrafone Atama e Kao Testa e faccia Atama no Itai Atama ga Itai Che differenza c'è? Atama ga Itai Mal di testa Kodomo no Kyoiku Hiwa Oianito te Atama no Itai Mondeides Il costo Dell'educazione È un Mal di testa È un problema Che crea mal di testa Ai genitori Atama ni Kuru E arrabbiarsi Atama ni Kuru Atama ga Itai Vabbè qua Ve lo segno Lo rosso anche Qua si può mettere ga O no Atama ga Kuru È arrabbiarsi Anna Koto Iwaretara Atama ni Kimasyo Se mi dici quella cosa Mi incacchio come una iena Poi abbiamo Atama ga Iroi Scusate Kao ga Iroi È conoscere tanta gente È avere tante conoscenze È tutto insieme Quindi lo lascio così Lui ha tante Visto che lui ha tante conoscenze Penso che conosco una persona Che vada bene Kao o da su È fare un salto Farsi vivo Alla festa di domani Penso di fare solo un salto O di farmi Cioè farvi un ciao con la mano E andarmene Come fa Seba Che passa Fa ciao E se ne va E lascia a sporco il water Allora inserisci Kuchi Che è bocca La bocca Come capite la bocca Kuchi 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 ga katai È uno che Sa tenere un segreto Ci sono proprio modi di dire Più che idiomi È un suo modo di dire Gli hai detto anche al signor Ara Sì stai tranquillo Tanto lui è uno che sa tenere il segreto Sicuro Kuchi ga katai Poi Kuchi ga karui Invece è uno che non sa tenere un segreto Che ha la bocca leggera Questa è la bocca pesante Questa è la bocca leggera Che non sa tenere un segreto Questo lo sa tenere Questo vi illumino il non Per farvi capire Che non sa tenere Sarebbe meglio che non lo dici Al signor Ayashi Kare wa kuchi ga karui Perché lui ha la bocca leggera Quindi è uno che parla facilmente Kuchi ni au Che ti piace Te gusta Allara gusta Kuchi ni au Kadoka Wa karima Senga Dozo Ishides Se ti piace o no Non lo so Però Prego È buono L'altro dice buono Kuchi o dasu È parlare o intrometri Intromettersi Kanke no nae no ni E kare wa su gu Kuchi o no i da ste kuru Quindi intromettersi in questo caso Lui nonostante lui non c'entra una fava Si è intromesso subito nel discorso Mimi che è orecchio E me che è occhio Occhio all'occhio del ranocchio Come vi insegna bene Benetan È la banda del ranocchio Soprattutto E mi mi ga itai O mi mi no itai Si può trovare col ga o col no Fare male l'orecchio Mi fa mal l'ureccia No mi sughi ni Cui ga Biro su china Mi mi no itai Anashi da Stai attento a non bere troppo È un discorso che fa male agli orecchi A chi gli piace C'è un discorso che non vogliono sentire A chi piace la birra Questo è per massimo Mi mi nishtà Che ne sei a conoscenza Che lo sai Sono Anashi Watashi mo mi mi nishtà Koto ga ro Quel discorso io l'ho già sentito Megamawaru Ti girano gli occhi O qualcos'altro Che significa Ti gira la testa Isokashi kute Megamawaru Sono così impegnato Che mi girano gli occhi Me ni Questo qua È Ukabu Mamma mia Mi sono ricordato Ukabu Mi viene in mente Mi ritorna in mente Bella come sei Mori san Mada Shachoto Shukin Kare no Komateru Kao ga Meni Ukabu Ma il signor Mori È ancora In trasferta col capo Mi ricordo Mi viene ancora alla mente La sua faccia È preoccupata Te che è la mano 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 La mia mano Te ga A ku Non essere impegnato Mai usare questa frase Dimenticatela subito Te ha ku Significa che hai la mano libera Te ga Aitarà Nimotsu Akobu No Te Tsudate Kururu Se non è una fava da fare Aiutami a portare le valigie Vedete che c'è subito l'esempio Che vi mostra Che non dovete mai usare questa frase Te ga tarinai Questo invece Mi serve aiuto O manca personale Manca gente Si può anche Manca gente Serve più persone Te ga tarinak Te komateru Serve un aiuto O manca la gente Ed è un problema Te o kasu È dare una mano Ciotto Te o kas Te kurenai Kore mukoni Akubukara Potresti darmi una mano Dobbiamo portare questo di là La risposta è No No Veramente ce l'ho sulla chiappa Ki ga au Ki ga au È essere in sintonia Come io e Mako Che siamo in sintonia E io gli dico Mi fai bianco E lei mi fa nero Kanogio to wa Mukashi kara Ki ga on des Con lei Da tanto tempo Abbiamo inteso Abbiamo feeling Ki ga suru Mi sembra che Ho la sensazione Come di Assorbimento Saki kara Dare kanimi Mirare teru Ki ga suru Da prima Sembra che ci sia Qualcuno Che mi stia osservando Ki ga tsuku Accorgersi Sumimasen Memoni Ki ga tsuki Masen Desta Sumimasen Memoni Ki ga tsuki Non ho capito Cosa significa Mako Sumimasen Memoni Ki ga tsuki Masen Desta Non ho preso Non mi sono accorto Degli appunti Appunti Ciao sebastiano 90 Ah non mi sono accorto Che c'erano degli appunti Ok adesso c'è Kini Airu Kini Mi interessa Nanika Kini Itta Monogatta C'è qualcosa che ti interessa Okini Okiniri Mise Un negozio che ti gusta Il negozio che ti piace Okiniri Kini 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 Non ti preoccupare So io come fare So io come fare Kini 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 Perché non ci sono gli esempi qua Kini Ah non c'è l'esempio veramente Kini 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 Non è una cosa importante Non ti preoccupare Kini Naro Interessare Shiai No Kekaga Kini Naro Mi interessa Il risultato della partita Kini Kiyotsukau Preoccuparsi Nani Nonimase Nani Kami Nonimase Kadoso Kiyotsukau Hai Dekudase Vuoi bere qualcosa E non ti preoccupare Sarebbe Non rompermi le vada Kubi Collo Voi pensavate che con Kubi Con me Era tutto facile Invece no Kubi Collo Kubi Kubi Ninaru Essere licenziato Ehm Se in questo periodo Mi licenzierebbero Sarebbe un problema Aragatatsu Arrabbiarsi O Aragatateru È la stessa cosa Tatsu e Tateru È transitivo Intransitivo Arrabbiarsi Sciaccio Lo Shizurei Natai Doni Aragatata Per il 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 modo Maleducato Del Scusate Ino Del Commesso Mi sono arrabbiato Solo per quello Non ti arrabbiare Allora Reizoko Comunque Queste lezioni Sono da tre pagine Aspettate che Dobbiamo giungere E Sonota Dov'è? Ah Sonota Era Kubi Vabbè Ah perché Non era Kubi Ok ho capito Questo è Sonota Sonota Mi licenziassero Mette sia Kubi Che pancia Mi licenziassero Ma sì Ma l'italiano È una lingua morta Non la usa nessuno Tranquillo Vai tranquillo Proto Grazie Comunque Reizoko O Kai Kainai To Ikenai Che do Ima Sonna Okane Wana Na Ishi Atamaga Itaio È esatto Quello che dico sempre a mia moglie Adesso non posso comprare un frigorifero nuovo Solo al pensiero Di usare questo Al di informare la cabeza I giapponesi che vogliono imparare l'italiano magari sì Ma l'italiano non impara il giapponese che vuole imparare il giapponese che vuole scrivere l'italiano Hai capito? Non ho capito neanche cosa ho detto io Domani vieni alla festa degli ubriaconi e dei colleghi ubriachi penso di arrivare in ritardo ma ci sarò Ieri sono stato tutto il tempo alla reception Non me ne sono accorto Che amico Per buttare quello mi sembra che sia uno spreco Ho capito allora lo tengo Tienitelo tu Me lo scusi per colpa mia abbiamo perso Non è così Non ti preoccupare Ti buttiamo fuori l'altima No ma ci lavorava alla reception ex No ma esatto Però quello non l'ha neanche visto Tutto il giorno è stato lì ma non l'ha visto Mori sante Seiji kanimo Shiri aiga Irundesga Ponto ni Kaoga iroindesne Il signor Mori ha amicizie anche fra i politici Ha proprio la faccia larga Che significa che ha proprio tante conoscenze Watashi ga Konna koto Janai kamoshine masenka Isoi daoga ito Omoe mas Watashi ga Kuchi Odas koto Janai kamoshine masenka Non è l'ha visto perché guardava Instagram Watashi ga Allora Watashi ga Mako aspetta un secondo sto tentando di pensare È molto importante Esatto Si Mako Mako non ho capito il senso della frase Watashi ga Le cacchio è Kuchi odas koto Janai kamoshine masenka Isoi daoga Isoi daoga Tomoi mas Non ci metterò becco Ma è meglio se fai in fretta Quindi ci metti becco Se vuoi ti aggiungo Al giro dello Spagna Agnastain No no grazie Non l'hai visto Perché guardavi Instagram Di un influencer Mako Ippo Mako c'è qualcuno Che guarda un influencer Che si chiama Mako Ippo Allora Mako ha detto Cos'è l'influenza Il Mako non ha l'influenza Hai capito? Mako Sta arrivando l'influenza Ma spera di no Mako influencer È uno che scrive blog Tocca Tu scemo E a chi Vabbè Buonanotte Abbiamo l'influencer Che ha l'influenza Allora Ho appena aperto il negozio Mi girano gli occhi Solo il pensiero Ah scusate Ho saltato la tre Mi viene alla mente La faccia di quando Lei si è meravigliata Sapevo che lo voleva tanto Esatto L'influencer Che non sa di essere un'influenza Quei due Sembra che abbiano sintonia Sono sempre insieme O sono sempre infilzati L'uno con l'altro Mi sembra che mi ha chiamato qualcuno E non c'era nessuno Questo accade a me tutti i giorni Presento Sarebbe bello se gli piace il presente Che c'è il regalo Nella stanza vicino Facevano dei rumori strani E non sono riuscito a dormire Chissà che i rumori strani Esatto Facevano dei rumori Facevano dei rumori Di molle del letto E non è riuscito a dormire Bravo Minchia non ho più la saliva Per fortuna ho lasciato Le ultime lezioni alla fine Perché Minchia è le lezioni più lunghe Du Brasil Cotoba Parole che hanno tanti significati Esatto Lezione Fotifo Cotoba Parole che hanno vari significati Rumori Però non ho scritto neanche il titolo Perché Parole Parole Con vari Significati Significati Oto Oti Ote Scusate mi ha laggato la connesizione Ti sei perso la parte più bella della live Allora Da A a V Proprio scritto A e V Proprio No questo mi rifiuto di scriverlo Da A a V non lo scrivo Timocinado Sentimenti eccetera eccetera Senza parole E la frase sui rumori sospetti Esatto Soprattutto la frase più bella Ti sei perso Ashiga Itamu Mi fa male la coscia Ho la gamba dolorante Ito Shi Okanashimu Essere triste per la morte di una persona Nezuni Kurushimu Soffrire per la febbra Eia Ga Atatamaru Riscaldare la stonza Eia O Atatamaru Vabbè questo è transitivo Intransitivo Io ho scritto riscaldare Scaldare ma è uguale Transitivo Intransitivo Open Cioè praticamente Questa è la stanza Si scalda E l'altro è Io scaldo la stanza Mi fa male la testa Ok Sup Ga Tatamaru Riscaldare la zuppa Scaldare la zuppa Di la stessa cosa Transitivo Intransitivo Questo qua non è tanto riscaldare Questo qua è Si scalda la zuppa E questo scalda la zuppa Comunque transitivo Intransitivo Anche questo Lo vedete dal Ga E o Ga e o E ga e o Transitivo Intransitivo Poi Case Ga Case Ga Ma è tutto Transitivo Intransitivo Non scaldare la minestra Rebo Questo qua è alzare i gradi E il vento diventa forte Vabbè Case Ga Io Io Amaru Il vento si indebolisce E Questo è Dambo Io Amaru E diminuire i gradi Del Del riscaldamento Aspetta vado un po' indietro No Troppo indietro Gradi Riscaldamento Il dambo Com'è che si Ma non è il riscaldamento Com'è che si Stufa Così ci sto E se no Non ci sto Ok Diminuire i gradi La stufa Ocia O Urumeru E diluire Il tè Cioè mettere Aggiungere l'acqua Nel tè Irogaru E allargare Irogaru E allargare Sempre transitivo Intransitivo Umini Chikazuku Avvicinarsi al mare Kame Avvicinare lo schermo Yorokobio Yogen suru Esprimere Felicità 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 Poi I chiban Notano Tanoshimi La cosa Che ti diverte Di più E macco Si è fatta male Kanashimi Norikai suru Capire La tristezza Alex Forse sabato Divento Grazie Alla seconda dose Ah bene Pensavo che diventavi papà Odorokino News Una notizia che ti ha sorpreso Senti nell'aria C'è già La nostra Canzone Mamma mia Come sono al bagno Ogni tanto Warai no ko E la voce che Warai no ko E' una voce che ride Una voce che Si sente ridere qualcuno Kokumin Noi cari La rabbia Dei cittadini La violenza Dei cittadini Omoio Otsu Far capire I sentimenti O qualcuno Kangai Onoberu Esprimere o parlare Di un pensiero Esprimere un pensiero O parlare di un pensiero Negai o Komeru Con amore Con la speranza Col desiderio Con sarebbe Negai o Komeru Col desiderio O speranza Poi Iki No Densha Il treno di andata E Kairi no Gikan E l'ora di tornare Se faccio figlici E rischio che faccio gemelli Se faccio Esatto No anch'io Quindi per quello Non li faccio Factory Cos'è scritto Che ti hanno bloccato Cos'è che ha scritto Factory Vediamo se è da bannare O no No Non ha scritto niente Cos'è che è scritto Non si vede Ringrazia che non si vede Se no Vieni bannato Instant Ha messo un link Ah si C'ha messo Ebbene Dipende Dipende che link Che ti viene a prendere La stazione Ok Mukai no No kuruma È la macchina Che ti viene a prendere Oshi no Ugoki È il movimento Delle stelle Eh si Però è strano Che escono XXX Di solito Non escono E basta Mune no Ataraki È il lavoro Cioè scusate Nono Ataraki È il lavoro Del cervello Katazuke Ga Sumu Finire Di mettere a posto Mettere a posto Tetsudai O Tanomu Chiedere aiuto Tanomi Okiku Chiedere Ascoltare una richiesta Tanomi Richiesta Wakare no Toki È il momento Di salutarci O di dirsi addio Wakare addio E anche quando Vi separate Con qualcuno Gishaku no Iroku Da Koutetsu Jigugek Utato Odori Ballare e cantare Quello che faccio Sempre io Asobi O Oboeru Imparare a Giocare Come giocare Tsuri Otsukeru Scusi Ciao Questo è Kasari Decorare Ricorare Shirase Okuru Ricevere Una notifica Alex Se vuoi Ti metto la chat Solo account Verificati No No Mi interessa No No Si Già Non c'è Nessuno Che account Verificati Kim Mario Difendere Le regole Già Non entra Nessuno Non c'è Bisogno Vai tranquillo Difendere Le regole Allora Azumarini Okuru Rimandare 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 L'incontro Rimandare La riunione Ritardare La riunione All'incontro Ho scritto Riunione Ritardare Azumarini E riunione Ricciamo Riunione O incontro Incontro Mettiamo Si Entrano I bot Ma Evito Che entra Anche la gente Già Quante cacchi di parole ci sono I soghi no E gli oggi Cose da fare urgenti Iacuari E no cigare La differenza del ruolo Questo è il ruolo Iacuari Tabi no cigare La stanchezza del viaggio Uari no gigà L'ora della fine Uari no serafo Ehm Qua mi sa che ci sono Ah no c'era Aspetta Allora abbiamo Yosuto Jutai Da mettere dopo Atamaru Scusate eh Non mi perdo Prima di Atatamaru Yosuto Jutai Devo mettere Situazione Condizione E quindi se vuole scrivere Eh sì ho capito Ma già non c'è gente Se poi anche Quei pochi che entrano Non li facciamo scrivere Siamo a posto Tanto a me se entra E scrive una cacata E se ne va Non mi cambia niente Lo banno E punto E abbiamo risolto Il problema Yosuto Però per quel secondo Ha fatto più numero Yosuto Jutai Situazione E condizione Situazione Intanto questa L'abbiamo scritta Mille volte Ormai quando siete Arrivati a questo punto Lo dovreste sapere a memoria E poi abbiamo Ancora Sentimenti Eccetera eccetera Perché è stronzo Dov'è che era Su Yorokobi Yorokobi Kanashimi La differenza Che mette altre lettere Però vabbè Non sto lì A diventare pazzo Fare quello copy Così Poi ci fermiamo a Azioni Azioni E basta Codo Codo sono le azioni Codo Eccetera eccetera Questo qua Poi abbiamo Poi abbiamo Ancora Yosuto Jutai L'immortale Non potremmo Mettere insieme Così Così Ricopiamo di nuovo Ricopiamo di nuovo Non so perché Li ha divisi così Però Noi ci fidiamo Del libro E' Ima e Akonno Tsuketano De E Iaga Atatamaru Madè Mosukoshi Matte Kodasai Ho appena acceso L'aria condizionata Visto che ho appena acceso L'aria condizionata Fino a che la stanza Si riscaldi Ci vorrà ancora un po' Devi aspettare un po' Atataru Madè Tacsan Netakedo Madè Tsukaregano Kotterut Tabun Ugochi Sugin No Ataraki Sugin Andayo Ho dormito tanto Ma sono ancora Sono ancora stanco Forse ho lavorato troppo Guarda che la gente Entra lo stesso Non entra Ma dove Che non c'è nessuno Cosa stai dicendo Dov'è la gente Dov'è Sono tutti a vedere Quella in costume da bagno Donna Konsato Ninaru No Ka Imakara Totemota Noshimides Quale tipo di concerto sarà Da adesso Non vedo l'ora Anche se metti Questa modalità Sì sicuro Cono Uta Niwa Sekai Ga E Waninate Oshi Negai Ga Komerare Teru In questa canzone Ho messo Il desiderio La speranza Che la terra Viva in pace Ma vai a cagare Va Kare No Kotoba Ga Okashiku Te Minna Warai Ga Tomari Mas Endesta Questo è il macco Che mi prende in giro Le sue parole Erano così strane Che nessuno Riusciva C'erano così Divertenti Strane Strane Che tutti Non riuscivano A fermare Le risate Bello Quello lì Motto Chikaku De Sono Eo Mitakata Kedo Itoga Okute Chigazuku Chikazuku Nakata Chikazuka Nakata Volevo vedere Quel disegno È più vicino Ma c'era Troppa gente Non sono potuto Avvicinarmi Ok Perché Chikazukenakata Non è Ga Chikazuku Ah perché Non ho potuto Ok Ok Ci sta Mata Kono Michi O Kogi Sterundes Stanno ancora Facendo lavoro In questa strada Kondo Michi No Oh mio Dio Nosumi Michi No Dovrebbe essere Oh mio Dio Michi No Non la so Abba Abba Larghezza Infatti Non lo so Anche qua Me lo segno Abba Questo me lo segno La larghezza Me la dimentico sempre Cioè Mi dimentico Il kanji Più che altro Abba Abba La larghezza Che poi la so Però vedi anche qua Non la sapevo Non me la ricordo Neanche adesso La larghezza Della strada Allora Secondo Irogerun Irogerun Da te Stanno ancora Facendo lavoro In la strada Adesso la stanno Allargando Chanto Sono le icone Di Halloween Ma Di Twitch Chanto Daigakuni Itte Magimeni Benkyoshinaito Goriyoshinga Kanashimu Io Se non vado Se non studio per bene Se non vado All'università E studio per bene Cioè seriamente I miei genitori Saranno Toristi Sono Che Gawa Madra Itamuno Ima Mo Zenzen Arigato Quella ferita Aiuto Ti fa ancora male No Adesso sto bene Cioè per niente Grazie Ma sono quelle di E O sono Cioè Sono quelle di Cioè che da Twitch gratis O no Che non l'ho capito È già arrivata questa ora Devo andare al part time Mi dispiace ma continueremo il discorso domani Magari non volevo sentirlo Ara san Onegai Tanaka san No Da tarà Tanomi Sicuramente No Tanomi Da tarà E Koto Mi hanno regalato E Ti prego Signor Ara Se è una cosa che mi ha chiesto il signor Tanaka Non posso dire di no Ho capito Questo qua però Sotto Meglio così Tanaka san No tanomi Da tarà Se è una cosa che mi ha chiesto No di alcuni stream Di cui mi hanno regalato Ok Allora a posto Pensavo che era gratis Per tutti O 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 Se hai fretta Chiama questo numero Ironna Nohito Gairudakarazze Inga Sanse Shinak Temui Ironna Atsumari Nohito Gairudakarazze Anche se tutti non danno l'ok Anche se tutti non danno l'ok va bene Che casino Questa è l'ultima lezione E dopodiché esplode tutto Qua ho sbagliato Ho detto Atsumari Cioè tanti Vari tipi di Di gruppi Volevo dire Invece non era Il tipo di Di gente che pensa No voglio l'acqua Caramella no Perché poi sputo la caramella Sullo schermo E mi rimane incollata E poi non vedo più I cangi Allora Questa è l'ultima lezione Dopodiché Questo ve lo metto sul file Chi lo vuole studiare Lì Se poi avete dubbi Perplessità Chiedete pure Kotoba Otsukuru Iji Ijiji Caratteri che formano parole E dici Che cazzo significa Boh Ok Non so il giapponese Allora In colla Kotoba Daijobu Daion Otsukuru Ijiji Cioè sarebbero Parole formate Da un carattere Ok No qua Si caratteri Parole che Parole fatte Da un carattere Mettiamo Sudanese Sudanese Dai Daion Dai Daion Allora Queste sono importanti Però Sono una rottura di coglioni Ma sono importanti Allora Questo qua È ripetere Allora Dove cacchio Lichio è Kai Su Nado Kai Su Nado Frequenza Non frequenza Kai Su non è ripetere Sì ma Kai Su cos'è Vabbè Frequenza Mettiamo Frequenza Eccetera Eccetera C'è quante volte Sarebbe Nansu Ok Sai Sai più Questo segno qua Non è così ma è così Signale c'è qualcosa Dove Ri Che sarebbe ripetere Sai Riu Riusare Ok Sai Rio Esatto Riusare Poi abbiamo Sai Osso Ritrasmettere Ok O rimandare Alla Poi abbiamo Sai Che è Everybody Sai Gigi Gigi Gai Il più Come me Sai Sai Go È il finale Il finale Del film Poi abbiamo Sai Che è il migliore Come me Sai Cine È il più Nuovo O l'ultimo Modello Sai Dai Il massimo Poi abbiamo Mi Che è quello Lì Non ancora Sai Hai Su Sai Sai Ai Suru Sai Cos'è che era È Riennamorarsi Ah no Ma Sai È quello È il miglior Amore Sì Anche quello La parola Dopo Dice che non È Completa Non Ancora Infatti Significa Mi Canse Non Ancora Completo Non Ancora Completo Mi Che Non Esperto Questo È Minorenne Mi Seinen Minoretà 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 Mi Kakunin Che Non È Confermato Con Così Come Lo Vedete Che Confermato Al limone Che Non È Confermato Mi Sci Non Ho Ancora Usato Cioè Che È Nuovo Mi Sci E Basta No Sì No Sì Poi Abbiamo Scin Che È Nuovo Shingaki È Un Nuovo Termine Sezione Che Cazzo Sto Scrivere Cos'è Che Ho Scritto Shingaki A Nuovo Marco Shingaki Cos'è Eh Ma Cosa Shingansen Semestre 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 Eh sì Ma non so Se semestre Perché Voi Viaggiate In modo Trimestre Quadrimestre Come Come Cacchio Sì Lo Scrivo Nuovo Periodo Scolastico Non so Come Scrive Eh sì Esatto Però Non sapevo Come Scriverlo In italiano Allora Shin Shoin È Nuovo Prodotto Shin Kiroku È Il Nuovo Record Mondiale Sarebbe Shin Kiroku È Nuovo Record Shin È Nuovo Anno Questi Sono Facili Shin Pink È Nuovo Oggetto E Shin Jin È L'ultimo Arrivato O Il Nuovo Impiegato Shin Jin Mettiamo Nuovo Impiegato Nuovo Impiegato O L'ultimo Arrivato Dipende Da come Vi piace Di più Qua È Negozioniamo Fu È Il Contrario Questo Fa Il Contrario Di Tutto Quello Che Vedete Dopo Cioè Praticamente Inverte Il Significato Di Quello Che Vedete Dopo Scritto I Te Negare I Te I Te Significa Negazione I Te I Te Negazione I Te Negazione Che Negazione Sarà Perché Ti Ha Finito Ripassone Sì Dell'N3 Devo fare N2 N1 Che Non So Quando Lo Farò Cioè Domani Però No Volevo Finire Prima Quello Che Avevo Fatto Il Coso Flash Quello Lì Dentro Le Robe Per Vedere Se Era Scritto Giusto Così È Completo Diciamo L'N3 I Te Negazione Questo Qua Fue Nega Quindi Fu Magime Che Non Sei Serio Magime È Serio E Invece Fu Magime Non Sei Serio Kenko Che Non È Abbastanza Giubone È Abbastanza Fugiu Non È Abbastanza Cano È Possibile E Fucano È Impossibile Fu Io Fu Il Non Importante Ma Perché Non Mi Scrivete Che Ho Scritto Imporante Siete Proprio Degli Amici Orribili Ma Su Destiny E Su Destiny Finché Non Esce Dlc A Guardate Che Comprerò Solo Dlc Ma Non Comprerò Stagione Per le stagioni Sono Una Ladrata Fu Bene Solo Sì Solo Dlc Però Non Compro Il Pass Annuale Non Lo Compro Più Una Rubate Basta Ti Fanno Fare Una Missione Ripetute Cioè Tre Missioni Ripetute Tutte Le Fortunato Poi Abbiamo Questo Qua E Anche Questo Nega Che Quello Di Mu O Bu Ma Chi Se Ne Frega Tanto I Contenuti Sono Nel Magazzino Non L'uso Neanche Muc Anche Che Non Centri Nulla Can Centrare Qualcosa Muc Anche Non Centra Mus Sekinin Che Non Hai Responsabilità Che Sei Un Irresponsabile Mus Shoku All'attenzione Mus Questo Qua Importante Hanno Aumentato Gli Slot No Mus Shoku Uno E Senza Colore E La Stessa Pronuncia Però Altro Kanji Che Senza Lavoro Che Sono Io Basta Murio Che La Parola Più Importante Che Significa Senza Costo Che Sarebbe Gratis E Muri Non Esagerare Muri E Esagerare Muri Non È Esagerare O Impossibile Dipende Dalla Situazione Poi Chi Non Ho Più La Saliva Grazie Marco Che Mi Ha Portato L'acqua Solo Che Non L'ho Vista Sto Diventando Cieco Ragazzi Minchia Meno Attenzione Sono Concentrato Al Limone Meno Attenzione Per Mettere Le L'ho 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 Guardata Malissimo Mentre Mangiavamo La Cena Gli Ho Detto Minchia Ma Sei Proprio Stronza Ti Hai messa La tua Acqua Sul Tavolo E la Mia Non C'è Ce L'avevo Praticamente Di Fianco E Non Abbiamo Poi Abbiamo E Vabbè Sto Diventando Cieco Oltre Che Stronzo E Vecchio Quindi Vedete Voi Allora Ito E Shigoto Persone E Lavoro Non Fatemi Schivere Shigoto E Persone I Kanji Che Non Sapete Leggerlo Perché Vengo A Cercarvi A Casa Allora Questo Qua È Quello Che Abbiamo Fatto Noi Che Io Vi Ho Già Insegnato Tra Shimbunkisha Il Reporter Se Ve Lo Ricordate Poi Il Shakaisha Il Presidente Praticamente Il Presentatore Siamo Presentatore Presentatore Quello Che Presenta Col Microfono Parla Microfono Scrivono Parla Mic Shashun Shashun Ken Thank you Shai Ricercatore Tanto Shai La Persona In Carico Qua Ve Lo Scrivo Perché C'è Persona Comunque Sincrono Tutti Persona Sanka Shai Partecipante Sarebbe Partecipare Diventa Partecipante Chi Boscia È Il Candidato E Boscia È Sempre Il Candidato Ok Poi Abbiamo In E Cosa Significa In Persona Ma La Domanda Che Dovete Farmi Perché Mettono Mille Modi Cioè Capo Pazzito Kai Shain È Lavoratore O Impiegato Dipende Da Come Mi Piace Più Ginko In Il Banchiere Te In Il Commesso Eki In Che Non Come Si Dice Ferroviario Ferrovista Non L'hai Sentito Quindi Ho Scritto Impiegato Della Stazione Gim In Impiegato D'Ufficio Kakari In È La Persona In Carico O Lo Staff E Shoku In Lo Staff E La Stessa Parola Poi Questo K Cosa Significa Persona E Mi Dite Ma Perché Hanno Scritto In Un Altro Non Tramviere Ferroviere Siete Sicuri Non Mai Sentito Ferroviere Eh Si Maco Dice Che Lei L'ha Sentito Lavora Alla Stazione Non È Quello Che Guida Il Treno Uno Qualsiasi Anche Lomino Che Indica A Destra Libero Sinistra Libero Il Treno Puoi Andare Ferrovista Ma Non Sare Mai Sul Treno Comunque Ka È Un Altro Modo Di Dire Persone Voi Mi Dite Ma Scusa Non C'erano Già Due Modi Per Scrivere Persona Perché Ne Ho Giunto Un'altro Perché Sono Stronzi Saka Autore O Scrittore Saka È Lo Seidica Figa Mi Si Incrocia La Lingua È Il Politico Maco Questo Devi Dirlo Con Se Monca Chi È Lo Special Lo Specialista È 252 75 Gli Spettatori Per La Petner Eh Lo So Ma Non Le Avrò Mai Quante Persone Vedi Qua Siamo In 5 Anzi 4 Più Mia Mamma Allora Qua Abbiamo Ski Cosa Significa Ski Persone Voi mi Dite Ma Scusa C'era Già K In Esha Perché Ne Aggiungono L'altro Perché Sono Stronzi Kiyoshi Professore Ishi Dottore Se Vedete Isha E Ishi Si Si può Dire In due Modi Diversi Dottore Perché Perché Sono Stronzi Però Questa Lezione Importante Ma A voi Ve l'ho Già Insegnate Qua Comunque No Gyo È sempre Compreso Qua Perché C'era Lavoro E Persone Gyo Gyo Così Saggio Lavoro Coggio Industria No Gyo Agricoltura Eghio Vendita Saggio Questo qua Me lo confondo Sempre Con Zanggio Non so Per quale Motivo Industria Tin Prodotto Qua E' per Un'altra Roba Poi Proto Mi dice Ma non è ordinato Non capisco Un sacco di scuse Per non studiare Quindi Devo scrivere Lo giusto Mono Cose E Kikai E macchinari Kikai Anche questo Non ve lo scrivo Perché voi Sapete benissimo Che questo E macchinari Vero Cose E macchinari Cose E macchinari Allora In Shokuin Cibo Kishokuin Prodotto Di bellezza Sintica Prodotto Comunque E ve lo scrivo Il prodotto Non ve lo scrivo Shokuin Prodotto Yunyuhin Prodotto Importato Che voi Avete imparato Bene Vero Che anche questo Ve l'ho fatto Nell'ultima lezione Serokuin Prodotto In vendita Sakuin Opera d'arte Chi è strumento Lo scriviamo bene Strumento Shokin Sono le stoviglie Gaki Lo strumento musicale Questo qua È quello di Macchina Che è quello di Aereo Che si usa per L'aereo Tipo i Koki Sojiki Che è il miglior amico Di mia moglie Che è l'aspirapolvere Sentakuki È il secondo Miglior amico Di mia moglie Che è la lavatrice Gido Hanbaiki È il mio miglior amico Quando vado in Giappone Che è il distributore Automatico Che mi dà da bere Perché se no Io muoio Kopiki È la stampante Rio Rio Casa mia Qua parliamo di spese Anche questo L'abbiamo già fatto Se vi ricordate Comunque queste cose Quelle abbiamo già fatte Nelle lezioni Quindi siete arrivati Alla fine delle tre Piop pieno pieno Voi non ve ne siete resi conto Ma avete fatto 5 4 3 In un anno Che non fa nessuno Dovete essere solo Orgoglioni di voi stessi O cane che sono sordi 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 Allora Rio Casa mia Che significa costo Ok New Giorio Costo d'entrata Lo fai solo tu In che senso Lo fai solo tu Sciorio Perché se no Marco Si incacchia Costo d'uso Giugiorio Costo delle lezioni Tessurio Il costo della commissione Sarebbe E questa è la spedizione Sordio Il costo della spedizione E Iurio Cioè Esserci costi Significa Ci sono costi Perché questo è il verbo avere 3 2 1 in un anno No Ah no Io ho fatto 3 2 1 in un anno Anche Io ho fatto 3 2 1 E allora ho fatto 5 4 3 Dai Dai e costo Tu dirai Ma non usano Rio Per dire costo Sì ma perché Puoi usare anche Dai Metti anche quello Ma mai la cosa Non fa più live Ma No no È sempre in live Costo elettricità Shoku Dai Costo del mangiare Io lo vedo sempre in live Costo del mangiare Bas Dai Costo del bus Ondai Costo del libro Io Fuku Dai Il costo del vestito Cichetto Dai Il costo del biglietto Shuri Dai Il costo di riparazione E poi Abbiamo due modi Per dire costo E noi aggiungiamo un altro Chi che avete imparato Anche voi Cosa significa costo Non gli fai più ride Oggi non ci è Ma ieri ci era Mike Oggi Non gli faccio ride Siamo in due Faccio ride Se c'è gente Non c'è nessuno Non faccio ride Faccio ride con una persona Kotsui Costo di trasporto Shoku Costo del mangiare Ha fatto karaoke Con la figlioletta San Kai Costo della partecipazione Kai Costo per diventare un membro O per fare la riunione Gaku Gaku Il costo scolastico E poi abbiamo Chin Chin cosa significa costo Mi dite Ma perché ci sono già Tre modi per dire costo E ne hanno aggiunto un altro Perché sono stronzi Chin Yacin Affitto Uncin Tariffa Uncin mi fa sempre da ridere Poi abbiamo Seijitsu Mi sono fatto la Uncin addosso Invece significa costo Seishitsu E Jotai Marco cos'è Seishitsu Non me lo ricordo Seishitsu Non me lo ricordo No Seishitsu Lo cerco Ne ho capito Marco mi vuole confondere Già sono confuso di mio Natura Proprietà Natura E condizione Ok Ho scritto Questo qua Lo sapete Lo ho scritto Mille volte Facciamo così Se no mi dite No me l'ho scritto di fianco Io pensavo Che era l'altro La voce così Ok Allora Questo qua Anche questa roba qua Ve l'ho già insegnato Come si usa Che poi c'è anche un'altra pronuncia Non c'è solo Che è giù Però vabbè Denwa Che Sto telefonando Non rompermi i maroni Shokujitsu Sto mangiando Non rompermi i maroni Sarebbe mentre Kaigi Che Sto facendo Sarebbe mentre mangio Mentre faccio Se cai Se cai Che questo invece In tutto il mondo Poi è Eia Che In tutta la stanza Con Shuchu Entro questa settimana Hanno tre significati diversi Mentre In tutto Entro Yasumi Chiu Durante Le vacanze Icinici Giù Sono nel mezzodì Icinici Giù è tutto il giorno O entro il giorno Ok Tutto il giorno Era giusto Sono nel mezzo E sto cagando Anche Un Ciciu Mentre sto cagando Techi Che significa Non me lo ricordo Più per Kenko Techi Salutare Per la salute Sarebbe Giose Techi Da donna Keikaku Techi Per il piano Vai se non si usa Kion Techi Praticamente O fondamentale O basicamente Però fa schifo Butai Techi È concretamente O specificatamente Kusocu No Kusocu Non si dice Kusocu Un Kusocu Se Kusocu E' attivo Positivo Perché son vivo Yo Perché fa molto bro Yo Yo Da Danse Yo Da maschi O da Si da maschi Ryoko Yo Da viaggio Kate Yo Da uso Casa lingua Qua mi metto il segno così Perché poi mi dite Ma cos'è quel segno Non lo capisci On è proprio Onsha è la mia La mia sede La mia azienda È aziendale Onnin è la persona in persona Onjitsu è oggi E onto è veramente Con il cuore E con la mente Sei è prodotto O made in Nihon sei prodotto in Giappone O made in Giappone Come volete voi Prodotto Gai Kususei prodotto all'estero Ok Poi abbiamo Kauasei prodotto in pelle Kau Kau è questo il kanji Non mi ricordo più Prodotto di pelle E poi abbiamo Rizzo Che Rizzo cos'è che significa Non mi ricordo più Ah vai vai Koku Rizzo è nazionale Shirizzo è privato E Shirizzo è municipale O cittadino Non so come scriverlo Sen è quello della linea O ferrovia Koku Naisen È la linea nazionale C'è ora ferrovia Nazionale Chiamatela un po' Come volete voi Koku Sai Sene È la linea internazionale E J.R. Sene È la linea J.R. Ok Pubblico Dove ho scritto pubblico? Sì pubblico e privato Sì nazionali Ho scritto pubblico È più giusto Bravo Ci piace di più Ci può fare di più Non mi veniva pubblico Comunque va bene No tu dici questo qua Municipale No questo qua è proprio della città Non so come si dice Adesso lo cerco Shirizzo Municipale Cittadino Municipale Basta selezionare linea Cittadino Basta selezionare linea Esatto E niente Facciamo gli esercizi E poi ci si dice Addio per sempre Guarda che non sapevo leggere Mibunshomeisho Si può che non sapevo leggere Jibunshomeisho Maledizione Allora E tu dirai Ma cos'è Mibunshomeisho La carta d'identità Per fare Per accettare La sua richiesta Bisogna verificare Che sei veramente tu Porta la carta d'identità A stronzo Kiteiono Print Nano De Insatsu No Spido Gaccio Tozoides Questa è una balla Si è un Si sanno leggere Carta di identità Visto che ha uso Visto che è una stampante A uso casalingo La velocità È un po' lenta Cioè stampa un po' Lentamente Questa è una balla Che vi Non è perché è una stampante La casa Allora deve stampare lento Cioè questa è una stronzata Però vabbè Ok Va bene Non ci sto Non me lo riprende più Ok Izuka Primo o poi Nagai Yasumi Otote Seikai Ju Ryoko Stai Tomote Mas Primo o poi Prenderò una lunga vacanza E voglio farmi un viaggio Intorno al mondo Sei bravo Sei bravo Ieno Watashi no ie Ewa Eki mo Bas te Mo Toku te Questo è Fubendes Casa mia Si ha la stazione Che la fermata del pulmo Solo lontano È molto scomodo Ten bai Ci metti cinque minuti Solo per dire la parola Che dargli il documento No Mi bun show me show Senti com'è veloce Mi bun show me show Il problema è che sono Cinque kanji Hai capito? C'è una parola Formata da cinque kanji Proprio facile Da ricordare Soprattutto Allora Dove cacchio siamo arrivati? Qua sei maleducato Casa mia è scomoda Poi Ie 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 Giù O sagasta Credo Che kioku Sono Wamitskonakata L'ho cercato in tutta la casa E alla fine Non ho trovato quel libro Questo è il manco Che mette a posto le cose O le butta E poi non me lo dice Baito Mi Mi sei Mi keiken Mi keiken Nande Nande Sga Dai Giobu De show Il part time Anche senza Esperienze precedenti Va bene Anche se non Esperienze precedenti Va bene In teoria L'ho comprato L'ho comprato L'ho comprato L'ho comprato L'ho comprato L'ho comprato l'anno scorso Non l'ho mai usato È nuovo No L'hai comprato l'anno scorso E dell'anno scorso Anche se non l'hai mai usato Non è nuovo Mi te Seru 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 Hinde È macco Se l'hai comprato l'anno scorso Non è nuovo Cioè scusa Seru Hinde Go Haribiki Ontodasu Goku Yasui Guarda Il prezzo Il prezzo Il prodotto in vendita È il 50% Veramente Costa pochissimo Sì è di 7 anni fa Sakaninate Taksan Noon Okakuganoga Yume desu Voglio diventare Uno scrittore Scrivere tanti libri Il mio sogno Nakano Ikinodensha Doredaro Anoeki Sani Anoeki Questo qua Eki Come era Ekiin Non me lo ricordo più Ekiin Sani Kitemyo Il treno Che va per Nagano Quale minchia è Chiediamo A quel ferroviere Proviamo a chiedere A quel ferroviere Kotsu Questo è Kotsu Kotsuhi No Koto Kangaruto Ieno Chikakude Albaito O Sagashtaitomo Pensando al costo Del trasporto Del trasporto Figa mi va via La saliva Vorrei trovare Un part time Vicino a casa E mica scemo Così non paga il trasporto Anch'io voglio Lavorare qua davanti Anzi Voglio lavorare a casa mia Più vicino ancora Risolto il lag su E No Ho fatto Ho disinstallato il gioco Ho aperto le porte Ho fatto di tutto Me lo fa di meno Ma me lo fa lo stesso Ho anche disinstallato il gioco Ho ristallato tutto Non so che cacchio è È il gioco che impazzisce Perché mi dice che proprio Si dice Ritardo rilevato Niente Con questo abbiamo finito L'N3 Io direi La prima parte Lo salvo con un altro nome Facciamo con Salva cartella N3 Corretto Corre Scorretto Non so scrivere corretto Abbiamo un problema Che non so scrivere corretto Corretto al limone Lo mettiamo sul desktop E cancello Non compatibile Perché mi dice che Ah no aspetta No Lo stavo salvando Sbagliato Non voglio salvarlo In formato strunt Aspetta che lo ricambio Salva con nome Devo salvarlo In un formato strano Perché ho solo quel formato lì Quindi non rompetemi i maroni Corretto Sto salvando il file Con i formati di mille anni fa Salva Esiste già Ma se mi hai detto che non esiste Mi dice che non me lo fa Perché? Credo per il culo XLS Non me lo salva? E non me lo salva Mi dice che Da errore Ma I don't understand Me l'ha sempre salvato Perché non me lo salvi più? Mi dice che Aspetta che faccio una salvatina di sicurezza Lo salvo senza salvarlo Sì l'ha salvato Ma mi dice che non l'ha salvato Cambia nome Eh l'ho cambiato Però adesso ve lo faccio così Prodotto Eh sì prodotto Ciao Lo riapro Cancello la prima parte Che non vi serve Vedi Mi è stato necessario Rimuovere delle formate da formatare Per vedere Che cazzo è sta roba Ma mi è No Guarda cos'è successo Aiuto Cos'è successo È sparito il giapponese No ma stiamo scherzando No spero che l'altro file è a posto Perché partono le bestemmi Aspettate che lo salvo Dall'altra parte Prima di aprirlo Che disastro Cioè tutta la mia La mia fatica È per nada De nada E asciugge Aspettate un secondo Lo risalvo Per sicurezza Questo è quel Per fortuna L'ho salvato Con un altro Ok Questo c'è Che cazzo Elimina Adesso riapro questo Cancello la prima parte Che non serve No no tranquilla Marco sbatti più forte Qua controllo che c'è tutto Va bene E lo salviamo di nuovo File salva con nome Metto Che cncn Si ripete la live All infinito Esatto Continuo a ripetere No beh Tanto io ripasserò Adesso me l'ha salvato Senza problemi Lo riapro Ok Adesso c'è Adesso c'è tutto Ve l'ho messo in ordine Tutto Avete il file di grammatica Dei kanji Tutto in ordine Scritto bene Comunque Ve lo ripeto Guardatelo Soprattutto Chi ha studiato Fino alla fine Anche chi non ha studiato Lo può guardare Comunque Guardatelo Se vi capite Se non capite Ci organizziamo Beh comunque funziona Adesso lo risalvo Per sicurezza Ve lo metto su E poi niente Ci salutazza Io mi tengo anche Quello originale Per onde evitare Che succedono Che succedono Bordelli Questo qua Me lo salvo anche qui Faccio più copia Opposta Perché se succede Casino Almeno ce l'ho Allora Dove ve lo salvo? Dove ve lo metto? Ditemi Dove lo volete? Lo metto dentro N3 N2 Che bug è strano Dove ve lo metto? Ecco Eh sì ma dove? Ve lo metto Giaco X principianti N3 Ok Lo metto lì? Vedo che siete d'accordo Allora ve lo metto qua Con un bel attenzione a tutti Poi Vale tanto io ce l'ho al file In caso Qualsuno serve Hashtag Che non so più come si fa Non so più come si fa Hashtag Non me lo fa Come cacchio si fa Hashtag Giaco X principianti Everyone Non mi ricordo più come si fa Everyone Everyone N3 È corretto È rivisto Provate da soli Se non ce la fate Ci si organizza Provate da soli In caso Non capite Vomi si sta ripetendo la voce all'infinito Si mette d'accordo In che senso? D'accordo In che senso si sta ripetendo la voce all'infinito? Naturalmente Prima Naturalmente Prima Ripassate File Per Principianti Comunque questa parte qua È Completa l'L3 Diciamo che avete fatto Buono studio E tanti saluti Buono studio In via Ok In che senso? Ma la via La mia La tua La nostra No Io la voce normale Non mi sembra che Ma ti si ripete nella live? Ok Quindi siamo Volevo Magari Domani Do un occhio a questo qua Quella mini Quella mini N3 Che poi sarebbe un repeat Di quello che abbiamo fatto prima Con le particelle Però questo mi sembra in ordine Però gli do una Gli do una veloce Cioè gli diamo una veloce occhiata Però questo qua N3 N2 Vabbè Faccio solo la parte N3 E poi la parte N2 La faccio un'altra volta Che questo è Un libricino Che c'è prima dell'esame Dai un occhio a queste cose qua Da ricordarti Ti do un occhio a questa roba qua C'è un mini grammatica Mini vocabolario E basta Magari faccio un giorno grammatica Un giorno vocabolario Ok niente Grazie ancora a tutti Tanti baci e tanti abbracci Grazie Joe Grazie Massi Grazie Dani Grazie Proto Ci si vedevan presto Tanti baci e tanti abbracci Gosciccio Arigato Gosaimast Grazie per avermelo visto e sentito E niente Ci vediamo Ok top Sono contento che funziona Hai visto prima Tutti i punti di domanda sono usciti Aiuto Tutti i punti di domanda Pensava se mi cancellava tutti i file Mi suicidava Vabbè E buona giornata a tutti Grazie a tutti